Ancora buon viaggio e bentrovati da Flores Multimedia Mauro Ciutini. Un incidente, attenzione in A11 alla barriera di Firenze-Ovest alla direzione quella per Firenze. Code a tratti in FIPILI tra Firenze-Scandici e la Trasigna in direzione Livorno e nella direzione opposta tra Scandici e l'allacciamento con l'A1. C'è una riduzione di carreggiata sul raccordo Bettolle-Perugia dopo un veicolo in avaria tra Foiano della Chiana e lo svincolo di Cortona in direzione Ponte San Giovanni. A Firenze traffico intenso sui viali, viale Belfiore, viale Strozzi, via Guido Monaco, viale Redi, viale Milton, viale Fratelli Rosselli. Lo sciopero degli aerei causa alcuni disagi. Il volo Ryanair da Brindisi atteso a Pisa è stato cancellato, quello delle 17.35 così come quello da Palermo a Pisa delle 21.55. Muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Ci sentiamo più tardi.